Il primo incontro di una serie di altri incontri che termineranno il 4 di febbraio su al Santuario dei Lattani. Come mai ha deciso di tenere questi incontri con i fedeli? Il 27 quando sono venuto per iniziare il mio ministero, commentando la parola di Dio, dicevo che il principio è sempre la parola. E quindi a partire da quella parola che abbiamo letto, ho pensato che riprendere il cammino con un pastore nuovo doveva assolutamente essere dalla parola di Dio. E quindi questi quattro incontri sono incontri di preghiera con l'adorazione, con l'invocazione allo Spirito Santo e con la lettura di brani dei Vangeli che ci parlano proprio di questo in principio, di questo inizio dura con Gesù. Ed è il cammino insieme con Gesù. Ecco, come abbiamo ascoltato questa sera, mentre Gesù camminava, passava, passando lungo il mare, ha incontrato alcuni uomini e gli ha chiesto venite, vieni. Quindi duemila anni fa ci furono degli uomini che seguirono questo invito di Gesù, vieni. Questa sera ci sono state tante altre persone che hanno seguito l'invito di Sua Eccellenza, ma la cosa meravigliosa è che qui in Cattedrale metà della gente, che era stracolma, erano giovani. E io di questo sono veramente pieno di gioia ed entusiasta, di questa risposta che francamente nemmeno io mi aspettavo, così come ho potuto vedere questa sera. Questo mi dice che ancora di più devo essere io, pieno di entusiasmo e pieno di gioia per trascinare con me questo popolo, questo bel popolo di Dio che vuole camminare con il suo pastore.